e vogliamo non ci consentiamo con gli occhi chiusi quando porto da 3 a 0 e dico la parola drop voglio che tu faccia cadere le mani sulle gambe non lentamente istantaneamente e automaticamente quando porto da 3 a 0 e dico quella parola lascia cadere le mani sulle cosce istantaneamente e automaticamente e io dirò la parola drop quando porto da 3 a 0 e la tua mano sinistra e la sua gamba istantaneamente e automaticamente 3, 2, 1, 0 drop adesso voglio che ti chiusi voglio che solleviti la mano destra dritta davanti a te la mano destra dritta davanti a te bene quando dico la parola su voglio che lentamente lasci la mano destra a salire su in alto in aria fino a che le dita non puntano verso il cielo quando porto fino a 3 1, 2, 3 su, su, su bene, su lascialo lì lascia la mano lì dov'è adesso quando dico le parole let go voglio che tu lasci cadere la mano sulla gamba velocemente velocemente istantaneamente automaticamente naturalmente e senza storza quando dico quelle due parole lascia cadere la mano sulla gamba istantaneamente e automaticamente lascia adesso con gli occhi chiusi entrambe le braccia sono rilassate i gomiti sono rilassati le mani sono rilassate le dita sono rilassate prima che andiamo avanti voglio mettere alla prova il tuo rilassamento il tuo rilassamento muscolare perciò non mi aiutare ad alzare la mano lasciala per un momento così rilassata che io ne possa sentire il peso rilassa più pesante bene, fantastico adesso con gli occhi chiusi quando conto fino a tre e arrivo a tre voglio che sollevi la mano sinistra davanti al viso con il palmo del viso rivolto verso la faccia a circa una trentina di centimetri uno due tre proprio così quando conto fino a tre voglio che sollevi la mano destra di fronte al viso sempre una trentina di centimetri quando conto fino a tre uno due tre così adesso con gli occhi chiusi quando dico la parola più vicino voglio che tu avvicini lentamente la mano al viso e quando lo tocca perché tu la lasci lì quando dico quella parola solo la mano sinistra si avvicinerà al viso solo la mano sinistra toccherà la faccia e rimarrà lì poggiata sul viso e quando dico quella parola fai che la mano sinistra si avvicini lentamente al viso e che ti tocca la faccia e adesso più vicino più vicino più vicino più vicino ancora 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 solo la mano sinistra ancora ancora verso il viso ancora e quando tocca il viso lascia l'arrivo bene non appena ti tocca il viso lascia che si rilassi sul viso quando tocca il viso e si rilassa sul viso lasci che anche l'altra mano cominci ad avvicinarsi al viso fino a che tutte e due le mani non toccheranno la faccia non appena la mano tocca il viso lasciala lì rilassata non appena tocca la faccia lasciala lì rilassata lasciala lì rilassata sul viso poggiala sul viso e allora lascia che l'altra mano comincia ad avvicinarsi adesso anche l'altra mano si avvicina avvicina ancora 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 di più di più lascia che la mano si avvicini al viso di più e quando la mano tocca il viso insieme ad l'altra mano rest onto your face adesso la mano va verso il viso va verso il viso la mano destra sempre più vicina sempre più vicina sempre più vicina di più di più questo aumenta la tua concentrezione per diventare più rilassata per diventare più rilassata più rilassata ancora di più di più di più e quando la mano tocca la sua mano lasciala lì rilassata sull'altra mano ancora lasciala appoggiata sull'altra mano quando ti tocco le spalle e dirò la parola sleep lascia cadere le mani tieni gli occhi chiusi e fai in modo che la bocca si rilassata quando ti tocco le spalle e dico la parola sleep le mani cadranno giù la testa si sposterà leggermente a destra e diventerai estremamente recettiva quando ti tocco le spalle e dico la parola sleep le tue mani cadranno sulle gambe le palpebre resteranno chiuse la testa si girerà leggermente a destra e diventerai estremamente recettivo sleep ogni parte del tuo corpo è rilassata lascia cadere la mandibola 5 4 5 4 3 2 1 0 adesso voglio chi chiusi quando conto fino a 3 lavorerò con te ad aiutarti a cancellare questa attività della mente che ti ha trattenuto da raggiungere quello che veramente vuoi quindi quando conto 1, 2 e 3 voglio che tu faccia affiorare affiorare quell'attività negativa della mente chiama la paura dubbio preoccupazione non la sentirai perché la metteremo nella tua mente giù fino al tuo braccio destro e la mano sinistra e il braccio sinistro e voglio che quando conto fino a 3 la mano sinistra si alzi in aria e io cercherò di abbassarla e lei cercherò di andare ancora più su perché ci avrei messo dentro tutta l'attività negativa della mente non importa come la chiami non importa che cosa rappresenta nella tua vita ma tu la vuoi abbandonare la vuoi cancellare renderla impotente e cancellarla quindi quando conto fino a 3 voglio che tu la prenda non la sentirai chiama la dubbio paura non importa non la sentirai mettila nella mano nel braccio sinistro e lascia che il braccio sinistro portala su e io cercherò di tenerela giù ma la mano continui a dare su per cancellare cancelleremo quella emozione quella limitazione quando conto fino a 3 lascia che la mano si alzi così che possiamo rimuovere l'insicurezza e il dubbio dalla tua mente rimuoverla per sempre al conto a 3 senza sentirla portala dalla mente nel braccio mettere il braccio quando conto da una a tre e fai in modo che il braccio vada in alto 1 2 3 let the hand go in su su harder higher try to bring up that emotion harder higher try to bring it up try to bring it up and when I say the word erase let it go try to bring it up go race lascia lascia cancella let it go lascia andare let it go e lascia cancellala fuori dalla tua mente fuori dai tuoi pensieri fuori dal corpo l'abbiamo cancellata cancelliamola finita puoi darti qualsiasi nome di te ma tanto è solo un'attività negativa della mente che abbiamo rimosso l'abbiamo tolta dalla mente fuori dal corpo e fuori dalla tua vita e questo è quello che volevi oggi e quindi puoi lasciarla andare quando ti sollevo la mano sarà completamente rilassata completamente 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 c'è un sorriso sul tuo viso ogni volta che hai un sorriso sul tuo viso ogni volta che hai un sorriso diventerai più forte più sicuro di te più felice più spontaneo più spontaneo più istintivo più forte ancora di più ancora di più andrea ancora di più e senti la forza di questa fiducia che adesso è con te ogni giorno e adesso ti disinco la testa per accettarla perfetto quando conto fino a 5 e ti prendo l'espressione dynamic confidence apri gli occhi e fai un bel sorriso e ti sentirai scivolerai un diverso un cambiamento e una maggiore forza che nessun altro essere umano ti potrà mai più togliere neanche te stesso neanche nessun pugile nessuno perchè è dinamico ed è potente quando conto fino a 5 e dico quelle due parole risvegliati completamente 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Excellent, excellent man, excellent, look at that, nice man, nice, look at that, look at that activity now.